Quando sento parlare di VHYL, GLDV, è meglio questo, è meglio quello, di DIV, mi ricordo me un po' di anni fa quando mi resi conto che con questi strumenti finanziari, sì, ottenevo qualcosina, ma quello che ottenevo non avendo patrimoni sui 500-700 mila euro, non era ciò di cui avevo bisogno. Che cosa ho fatto? Piano piano li ho smantellati, non ho ancora finito di smantellarli, vi spiego perché, perché è un percorso che è partito vent'anni fa di un investitore fifone che investiva soltanto in obbligazioni, a un certo punto mi sono reso conto che la redditività di un portafoglio, quando non è fatto di 500 mila euro al mese e se per vivere ti servono quantomeno 2000-2000 euro al mese, non ci puoi arrivare con questi rendimenti. L'unica cosa buona che hanno è che crescono nel tempo, hanno una crescita lenta e quindi se uno ha l'obiettivo di mantenere il valore del proprio portafoglio e poi riutilizzare questi dividendi per comprarne altri più alti, sicuramente è stata la seconda fase degli investimenti nella mia vita, di cui non mi vergogno di dirlo, sono stato molto molto lento a capirlo. Sono nato come un investitore abbastanza prudente, fifone, che investiva soltanto in obbligazioni, poi sceglieva questi prodotti perché costano poco, hanno dei grafici di lungo periodo che soddisfano e poi a un certo punto ho detto va bene, però la strada così è troppo lunga, quando vedevo gli accrediti di dividendi in base all'investimento avevo bisogno di qualcosa di più forte, qualcosa di più forte che poi finché non arrivavano i covered call c'è stata una seconda fase in cui ho investito in singole azioni italiane, inglesi e americane minimo 10% di dividendo e anche lì ogni tanto c'è stato tante volte ho guadagnato, qualche volta mi sono saltate per aria i dividendi, per carità sbagliando si impara, però già lì si notava un miglioramento del rendimento. Mi ricordo quando incassavo 2000 euro netti all'anno di dividendi l'anno dopo contai, ce l'ho ancora scritto, ho trovato questo vecchio foglio, erano diventati 2220, poi da 2220 investendo sempre questo 10% erano diventati 2242, il terzo anno erano 2450, lì si inizia a essere un'entrata con 100.000 euro investiti che ti puoi permettere le bollette di un piccolo appartamento, ti puoi permettere la manutenzione di una macchina, l'assicurazione, il bollo, poi dipende ovviamente dalla cilindrata, dalla regione, comunque ammortizzi tantissime spese e già è qualcosa perché potersi spendere uno stipendio perché con i dividendi copri tutto uno stipendio per divertirti e stare bene nella vita, perché con i dividendi copri delle spese abbastanza importanti, hai già raggiunto un ottimo livello se stai in questa fase. Poi passano gli anni, si ha voglia anche di cambiare lavoro, di lasciare un lavoro per potersene cercare un altro e viene voglia di aumentare questa redditività, la famosa frase l'appetito viene mangiando, si guadagna consapevolezza perché si scopre che nel tempo i mercati se si investe con pazienza sui ribassi non sono questo mostro con 7-8 tentacoli, questa truffa, questa grande truffa che qualcuno prova a raccontarci e allora che succede che si prova anche un altro strumento mettendoci piccoli sites ed eccolo là che io mi ritrovo dopo, questo è il ventunesimo anno che faccio mercati finanziari e mi ritrovo un 29% del portafoglio in certificati, un quasi 10% in QYLD, un 8-9% in MLPD preso nel 2020, una buona percentuale di dividendi che incasso da singole azioni, queste sono tante, tante piccole posizioni in singole azioni che comunque pagano oltre il 10%, quindi stiamo quasi al 10% netto, eccolo là che con anche 150.000 euro si possono raggiungere 12.000 euro netti l'anno senza problemi, ovviamente poi magari questi, cosa me ne sto facendo di questi VHYL, TDIV che ancora qualcuno ne ho? Quando vedo opportunità nei mercati piano piano li vendo, quelli che stanno ovviamente in gain, lo sono buona parte, cioè il GLDV lo ho in perdita personalmente, però ecco mi sono reso conto qual è il senso di questo video, è che se hai un patrimonio sotto i 200.000 euro, ma secondo me anche i 300.000 euro, perché ho lavorato tantissimo personalmente sul costo della vita, su me stesso per abbassarlo e ovviamente bilanciare la mia felicità, il mio benessere con un costo della vita più basso possibile, proprio per aumentare il mio patrimonio piano piano. Se non hai 300.000 euro minimo, non ce la fai, non ce la fai con questi FGQI, USDV ragazzi 2,2%, me li sono segnati, sono andato a prenderli su investing quanto rendono. Poi c'è l'ISPA che ho anche quello, che magari ti rende quel 6% lordo, che è un buon rendimento devo dire, ovviamente è più sicuro di una singola azione, perché con un click, anche se saltano per aria, due di queste 100 azioni che prendi con un click di quest'ETF, l'ETF ti può fare meno 0,5, ti può addirittura salire e i dividendi li incassi. Poi se guardi il grafico ovviamente vedi che esclusi i dividendi che hai incassato anche del 6% lordo all'anno, ti ritrovi comunque la posizione che ho visto a tre anni, a febbraio di tre anni fa sta 0%, ragazzi, quindi ci vuole, ci vuole ragazzi, ci vuole tanta psicologia per investire nei mercati. Ovviamente la strada è almeno tre volte più corta, comunque sto aumentando di tanto la redditività del mio portafoglio proprio da quando ho iniziato a investire in questi strumenti, anche io forse ho perso tanto tempo ascoltando quelle frasi, ah più è alto il rendimento, più è alto il rischio. No, ogni investimento è una storia a sé, ogni investimento va studiato, va valutato bene per il rischio e il rendimento, ma se ogni qualvolta adesso inizio ad avere la sensazione che questo 8%, questo 10%, 15% può andare a dar, ma per onde ci investo? Ovviamente ci metto la SAITS che se perdo il danno è minimo nullo, può un certificato perdermi il 40, il 50% al rimborso, tuttavia se il 90% del resto del portafoglio continua a fare il suo lavoro, un incidente di percorso è sano, è educativo, se ne fa tesoro per la prossima volta. Però ragazzi, ecco, questa non è un'istigazione a usare strumenti più speculativi, però è un invito a chi non ha grossi patrimoni a valutare bene la redditività di un portafoglio e magari non essere così lenti come me, ma guardare anche, avere un po' più di coraggio e provarci magari soltanto come ho fatto io con i dividendi incassati nella seconda fase dei investimenti della mia vita. Se vi è piaciuto questo video, per favore mettete un like, se avete domande fatele sotto il video su YouTube o sotto il post sulla pagina Facebook e iscrivetevi al canale che mi fa sempre piacere. Alla prossima ragazzi, ciao!